bene eccoci qua un saluto a tutti ho da poco terminato il corso di pasticceria di base di andrea conosciuto per caso girovagando e cercando un qualcosa che mi potesse soddisfare che andasse oltre quelle che erano o sono le normali indicazioni che puoi ricevere guardando su internet acquistando determinati libri e quant'altro cercavo qualcosa di più cercavo qualcosa che mi spiegasse il perché di certe cose l'ho trovato l'ho trovato non conoscendo andrea l'ho trovato avendo la fiducia degli ascolti che cercando su internet ho ricevuto mi ha impressionato non tanto il suo sapere trovo normale che un professionista conosca in maniera approfondita alla materia ma è il modo con il quale spiega questi concetti spiega il perché delle cose ecco soprattutto il perché delle cose perché delle cose non sono sempre non le trovi dappertutto le ho trovate in questo corso in questo corso questo chiamiamolo di primo livello questo corso base molte cose già le conoscevo pensavo di conoscerle in realtà questo corso base non è stato per nulla superfluo nessuno di quei minuti che ho utilizzato sono stati minuti persi assolutamente no e con grande piacere non vedo l'ora di iniziare anche l'altra parte del percorso che sicuramente sarà entusiasmante ancora di più rispetto al primo se mai questo possa essere ringrazio andrea che non conosco prima o poi andrò a conoscerlo di persona perché nella mia vita ho voluto conoscere tutte le persone che mi hanno lasciato qualche cosa grazie